Ciao a tutti ragazzi sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo video della Candy Craft Questo è un episodio speciale e capirete il perché continuando a guardare questo video Intanto vi ringrazio a tutti quanti per tutti i commenti nello scorso episodio Mi avete spiegato come trovare le api, mi avete detto che sono super super rare E quindi devo continuare a girare, devo cercare sotto gli alberi, principalmente nei biomi con tanti fiori E molto probabilmente, con un po' di fortuna, riuscirò a trovarle In più mi avete anche detto di mettere un campfire sotto l'alveare E di non rompere l'alveare assolutamente perché altrimenti le api impazziscono e mi iniziano ad attaccare Quindi va bene, va bene, ci troviamo come vedete nell'1.15.1 E per qualche strano motivo la casa di Billy è vuota di nuovo Ma come l'avevo decorata? L'avevo decorata nello scorso episodio, che cosa è successo? Mi sa che ho usato un salvataggio sbagliato, va bene, non fa nulla, la ridecoreremo un'altra volta Comunque nei commenti mi avete detto tutti quanti come ottenere più bollicine Mi avete detto di mettere la sabbia delle anime E avevate ragione, infatti adesso la piscina è piena di bollicine E in più io posso galleggiare e saltare come un delfino, è bellissimo Penso sia una delle cose più divertenti e più belle di Minecraft che ho mai fatto Quindi, ah, adesso l'episodio lo passeremo tutto il tempo qua Sì, a non fare niente No, sto scherzando ragazzi, avete sicuramente letto il titolo di questo video Avete visto la miniatura E quindi, oggi, fatemi spiegare Fatemi spiegare, con calma Ehi, ehi, non c'è fretta Tu siediti comodo E lascia che Kendall ti spieghi tutto Nel secondo episodio della Candy Craft, ben tre anni fa Avevo fatto una promessa a voi fan Dopo aver costruito la casa sull'albero Quella là, che ormai è una casa iconica Tutti quanti la conoscete molto bene Ehi, signor Pigment, che sta facendo? Non mi interrompa Dicevo, dopo aver costruito questa casa sull'albero bellissima Oddio, bellissima Di scaricare Questa casa sull'albero Avevo promesso ai miei fan di creare un'entrata segreta Quindi, di mettere un meccanismo di redstone Che chiudesse questo legno In modo tale che non si capisse Che questo qua era una casa, in realtà Perché, come vedete, adesso Qualsiasi intruso potrebbe venire qua e dire Oh, delle scale Questa deve essere una casa Giusto? Chiunque col cervello riuscirebbe a capirlo Quindi, avevo promesso di creare un'entrata segreta Ma non l'ho mai fatto Perché, sapete bene che io non sono bravo con la redstone Anzi, direi che sono veramente una ciofeca Sono ridicolo con la redstone Non so Non so creare nessun meccanismo E quindi ho procrastinato 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 Fino ad oggi Oggi, ragazzi Sì Creeremo l'entrata segreta Della casa sull'albero Infatti, ho già preso i materiali Anche se non sono sicuro che mi servono questi Cioè, tipo i repeater Io non li so utilizzare Quindi, li ho presi solo perché fa figo E sono sicuro che chiunque sappia utilizzare la redstone Si farà una bella risata Guardando questo video Perché farò un patatrack Allora, iniziamo dal togliere queste foglie E spianare un pochettino il terreno Perché avremo bisogno di tranquillità Abbiamo bisogno di tranquillità Quindi, pollo Zitto Oh, che fine ha fatto il pollo? È sparito Non lo so, ragazzi È sparito Quindi, come vi dicevo ragazzi Abbiamo bisogno di tranquillità Abbiamo bisogno di togliere questo Poi faremo un'altra entrata Alla stanza degli iscritti Perché io ho fatto qualche piccolo test In un mondo in creativa Per vedere, appunto, come si poteva fare questo meccanismo Giusto? E diciamo che ci sono semi riuscito Non è venuto proprio un capolavoro Però c'ero semi riuscito Quindi, io adesso devo Teoricamente devo mettere un pistone Esattamente qua, giusto? Questo sarà il pistone Sì E poi un blocco qua Questo qua chiuderà l'entrata Perché se io adesso gli metto questo qua Visto? Si abbassa Adesso devo crearne un altro No, 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 no Devo fare più basso Vedi, già sto iniziando a sbagliare Avete visto ragazzi? Credetemi quando vi dico che io non le so fare queste cose Ok, il pistone va messo qui Bene Che spinge il nostro blocco di legno Che sta qua Ok Quindi se io adesso metto la redstone Bam, perfetto Mi chiude l'entrata Poi qua verrà spianata ragazzi Così potremo entrare con tranquillità Perché al momento Vanno fatte delle modifiche Ecco, vanno fatte delle modifiche al mio mondo Ed è arrivato il momento di farle Perché dopo tre anni Me l'avevo promesso Va fatto Quindi io adesso devo mettere questo blocco di legno Qua In questo modo E questo mettendoci un pistone sopra Salirà su In modo da chiudere tutto Come vedete Si riesce a vedere la scala Ma questo non è un problema Perché poi lo possiamo tranquillamente Tipo chiudere con dell'altra legna Giusto? Si Giusto Forse Vabbè Allora intanto Che cosa facciamo noi? Intanto chiudiamo questa stanza Al momento Poi verrà riaperta State tranquilli Non sto chiudendo la stanza sacra Degli iscritti Per adesso lo stiamo facendo Soltanto per Comodità Questo qua va messo qui Bene E adesso se io uso una torcia Perfetto Visto? Eh? L'ho chiusa Toggo la torcia Tolgo quest'altra E si apre E io posso entrare Quindi abbiamo capito Le regole fondamentali Di come funziona La redstone Ora quello che dobbiamo fare è Creare un circuito sottoterra Calma 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 Qua Lo mettiamo qua la leva Ok Si attiva Molto bene Quindi io adesso devo semplicemente Fare in modo che questo circuito Arrivi fino a quassù Come posso fare? Direte voi Non lo so neanche io Dile la verità Però adesso ci proveremo Possiamo mettere su questo Non lo possiamo mettere su questo blocco Ok La possiamo mettere Allora Qui forse Si Poi qui E ho appena rotto Una parte di scala Bravo Kendal Oh mio dio ragazzi Cosa sto facendo? Cosa sto facendo? Perché? Perché sto provando a fare Una cosa che non so Palesemente fare Ok ok Aspetta 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 Calmarci Possiamo riprovare Potremmo Mettere un blocco qua Se io riesco a rendere Il mio albero Molto più massiccio Mettendoci quindi Più strati Davanti A destra A sinistra E così via Posso nascondere meglio La redstone No? No il segnale non arriva Ah lo devo mettere su Certo 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 Ma che stupido Ok così Così E ora metto la redstone Bam Eh? Ce l'ho fatta Ha funzionato Visto? Visto che non sono stupido Come credevate? Cioè un pochettino Sono stupido Perché non sto riuscendo A fare neanche Un meccanismo di redstone E invece Se faccio tipo così E poi Qua aggiungo questo blocco Teoricamente dovrebbe funzionare lo stesso No? Leva Funziona Ottimo Ora non devo far altro che mascherare Tutto questo meccanismo qui Ma si anche in questo modo Questo purtroppo non lo posso Assolutamente togliere Quindi visto? Abbiamo creato la nostra entrata segreta Lo chiudo Bam Segreta Lo so è un po' brutto Però funziona Va bene Ok 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 Ai dettagli ci pensiamo dopo L'importante è che questo adesso stia funzionando Molto bene Io adesso posso tranquillamente Nascondere questa entrata in questo modo Aggiungendo Aggiungendo vari livelli Di legna Visto? Geniale No Che è successo? Ho rotto il segnale Ho interrotto il segnale Non pensavo si potesse interrompere Ok Quindi così Qua cosa posso fare? Gli potrei mettere delle foglie Forse Beh intanto Qui adesso Gli posso mettere la terra Sì Come faccio? Oh no ragazzi È più complicato di quel che credessi Ecco perché non l'ho fatto Ci ho messo tre anni Ad arrivare qua Per un motivo Perfetto Guarda Si nota a malapena Che c'è un passaggio di A me sembra un albero A voi? Eh? No si nota che c'è la redstone Si nota e come Però non ho la minima idea Di come mascherare Questa redstone qua Perché se ci metto un blocco sopra Poi Mi scusi Io starei lavorando qua Se ne vada per favore Quindi non lo posso mascherare In questo modo Dobbio Ho detto Se ne vada No 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 Non ci posso Ma dai Ma c'ho Ragazzi non è destino Ma dai Proprio il creeper Ok Che cosa ha rotto? Ha rotto Ha rotto questo blocco Ah sì Ha rotto il meccanismo È stato un grande Grande Errore Perché l'ho fatto? Perché? Mi spiegate? Dovevo per forza fare la porta automatica Dovevo per forza prometterlo tre anni fa Il problema è che non riesco A nascondere tutta questa redstone Perché non posso? Ora sono sicuro Che qualcuno di voi Ha già in mente la soluzione Magari super semplice Proprio qualcosa di ovvio Che io purtroppo non riesco A capire Bene ragazzi La situazione al momento è questa Ed è tragica È veramente una pessima Pessima situazione Perché come vedete Ho creato un meccanismo Però fa schifo È pessimo È bruttissimo Non funziona È tutto sbagliato È tutto Ragazzi io ci ho provato Credo di aver fatto un grosso grosso errore Però come vedete La porta adesso c'è L'unico problema è che Non posso togliere questo blocco Non posso togliere questo blocco Quindi qua è tutto aperto E per cui devo chiuderlo in questo modo Ma questo è l'ultimo dei problemi Il problema principale è che non posso nascondere questo Cioè beh Sì così posso nasconderlo ma Bene Questo già mi piace Il problema è qua Il vero problema sta qua Che non riesco a nascondere tutta questa redstone E non penso di poterla nascondere in nessun modo Cioè è proprio impossibile Come fai? Però per quanto riguarda il resto ragazzi Qua funziona Come vedete Ce l'abbiamo fatta Abbiamo creato La porta automatica Dopo tre anni Se voi ne capite qualcosa di redstone E se c'è un modo migliore Per creare questa porta segreta Tra l'altro mi sono intrappolato adesso Non la posso neanche più Non la posso neanche più aprire Ok devo per forza fare così Così forse è meglio No non è meglio È bruttissimo Ragazzi mi viene da piangere Che cosa ho fatto? Che cosa ho fatto? Mi sa che quasi quasi torno al vecchio backup Ci ho provato Ci ho provato e ho fallito miseramente Mi sa che cancellerò questo mondo E tornerò a un salvataggio precedente Prima di creare tutto questo abominio Bene Quindi oggi avete imparato Niente Perché con me non potete imparare assolutamente nulla Figuriamoci se potete imparare qualcosa con la redstone L'unica cosa che abbiamo imparato È che se non sai fare qualcosa Non farla Cioè impara a farla prima E poi E poi provaci Credo proprio che questo mondo verrà cancellato E utilizzerò il salvataggio precedente Così da avere il mio mondo normale La mia porta normale Ragazzi Ci ho provato Spero che questo video vi sia piaciuto comunque Lasciate un bel mi piace Dal vostro candle è tutto E noi ci vediamo domani Con un prossimo video Scusate Ciao